Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Tremendo lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'improvviso lo storico manager dei VIP. È scomparso a soli 52 anni, presumibilmente per un attacco di cuore. Era agente di Raffaella Carrà, Gina Lollobrigida e tante altre star dello spettacolo. L'annuncio della morte arriva da Sandra Milo, che sui social lo ricorda con affetto. Si è spento inaspettatamente un collaboratore prezioso, un amico di vecchia data. Molto più di un fidato agente, quasi un quarto figlio. Tra i tanti VIP che hanno deciso di dedicargli un ricordo, c'è Mara Vignère, che, sul suo profilo Instagram, lo ha salutato per l'ultima volta con una dedica speciale, in cui si legge. Alessandro eri gentile, buono, generoso, troppi dolori per te, ti volevo tanto bene. Anche Stefania Orlando ci ha tenuto a dedicare parole di dolore. Alessandro era sensibile, dolce, attento, dotato di grande umanità. Conserverò nel mio cuore per sempre i momenti passati insieme. Che dolore mi ha dato la notizia della sua scomparsa. A lasciarci è Alessandro Locascio, storico manager dei VIP. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.